A 19 anni è protagonista della sitcom di Italia 1, Bim Boom Manga, successivamente partecipa come protagonista di puntata Casa Vianello, poi in Camera Café, nel film Two Families, per entrare poi nel cast della sopopera Un posto al sole dove, dal 2005 al 2007, interpreta il ruolo di Ludovica Mancini. Per poi tornare in alcune puntate del 2008. Nel 2008 e nel 2009 è nel cast principale della sopop Un posto al sole d'estate. Con lo stesso ruolo ma con maggiore spazio riservato alle sue doti canore. Silvia Giordano ha anche cantato in avari spot pubblicitari e in alcune sigle di cartoni animati.